La parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Tortora ha inaugurato nel fine settimana l'anno pastorale 2013-2014, l'occasione giusta alle manifestazioni religiose in onore di San Michele Arcangelo, che la tradizione ebraico-cristiana identifica come capo delle milizie di Dio che difendono la fede contro le orde malefiche di Satana. Sabato e domenica la Statua del Santo è stata portata in processione lungo le strade di Tortora. Due giorni, due itinerari diversi, questo per dare maggior risalto sia all'inizio del nuovo anno pastorale che alla figura di San Michele Arcangelo, custode e patrono della Santa Chiesa. Sabato, nel corso della Messa, sono stati benedetti i docenti e gli alunni degli istituti scolastici di Tortora. Con l'inizio del nuovo anno pastorale, ha detto il parroco della Chiesa Santo Stefano Protomartire Don Antonio Pappalardo, rinnoviamo le nostre preghiere lasciandoci illuminare dallo Spirito Santo. Affidiamoci alla preghiera, all'eucarestia domenicale, alla lettura della parola di Dio, al digiuno e alla confessione. Grazie a questo equipaggiamento, ha concluso Pappalardo, possiamo sostenerci nella fatica e rifocillarci nello scoraggiamento. Un messaggio rivolto a tutti, fedeli e non, perché il nuovo anno pastorale non sia solo una routine di eventi, ma l'inizio di un cammino di scoperta, conversione e attrazione, soprattutto per i lontani, per coloro che ancora non hanno sperimentato la gioia della fede. Festa grande anche a Santa Maria del Cedro, dove San Michele Arcangelo riveste il ruolo di copatrono cittadino insieme a San Giuseppe. Anche qui due giorni di celebrazioni religiose condite da momenti più mondani, come il concerto di Adriano Pappalardo tenutosi sabato sera. Grazie a tutti.